buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in un nuovo video oggi faremo insieme lo spaccattamento album 9 e mi è arrivato oggi il pacco perché ho fatto l'ordine subito appena entrato in vigore l'album quindi il 5 di luglio e quindi adesso vi faccio vedere cosa ho trovato nel pacco che ho già aperto infatti questo è vuoto e ho già messo tutto nei sacchettini per riuscire a consegnare consegnarli velocemente alle clienti scusate se dietro c'è tutto questo marasma ma ovviamente i pacchi erano due e quindi questo ordine era di circa 297 euro all'incirca quindi mi sono arrivati due pacconi di 10 kg di prodotti e siccome devo consegnarli in fretta non ho fatto in tempo a fare il video quando era appena mi è arrivato diciamo allora iniziamo direi con il sacchettino che c'è più piccolo qui allora nel sacchettino questa è la misura piccola di solito metto dentro sempre la fattura e poi c'è una signora la signora signora mi ha preso che che è questa la crema della sebo vegetal che ho anche io e che sto utilizzando volentieri che mi piace un sacco una crema in gel e che si assorbe subito e che almeno per il mio tipo di pelle è particolarmente indicata siccome è una pelle mista grassa mi piace un sacco e allora lei ha preso soltanto questo prodotto e io all'interno come sempre ho messo questo sacchettino con dentro qualche campioncino qualche profumo qualche cosa e questo è manca l'album che non so perché non l'ho messo vabbè lo metteremo dopo il secondo sacchettino è un po più grande all'interno ho messo i due album l'album 9 che siccome è ancora in vigore io ci tengo a metterlo dentro nei sacchetti perché comunque fino al 30 di luglio io diciamo consiglio alle mie clienti che anche se hanno già comprato su questo catalogo magari piuttosto che comprare dal catalogo 10 dove non ci sono queste fantastiche promozioni di continuare a usufruire di questo catalogo perché è veramente molto ricco io ho guardato 10 e ovviamente non ci sono le stesse offerte quello è chiaro ma io conto di riuscire a fare un altro ordine su questo catalogo perché è veramente un catalogo eccezionale per i prezzi e la crema che vi ho fatto vedere qua costava 5,95 non so se l'avevo detto però ok quindi ho messo l'album 9 dentro alla cliente più l'album 10 che è questo questa è la copertina ecco qua che in realtà non spoiler a nulla questa copertina quindi a posto non ci sono ancora novità su questo album perché le novità arriveranno nell'album 12 quindi diciamo è un catalogo abbastanza carino carino dai diciamo così allora la cliente mi ha preso una matita per le sopracciglia sta che era in offerta a 5,95 infatti l'ho presa anche io per me e questa nel color biondo e poi mi ha preso il mascara volum vertige che questo dicono essere molto molto buono infatti l'ho comprato anche io per me me l'ha comprato anche un'altra cliente e il mascara costa 9,95 ok questi li rimettiamo dentro e poi alla ragazza ho fatto appunto il sacchettino con i tre campioncini e la crema che era nel nell'opuscoletto di fine sede del catalogo quindi la crema a mani alla mela rossa ecco qua e poi rimettiamo tutto nel sacchetto dopodiché allora qui cosa abbiamo allora anche qui ho messo ovviamente il catalogo e questo shampoo doccia al monoi che io amo stramo infatti quando c'era la promozione 2 a 6,95 di questi ne avevo approfittato perché io c'è il monoi strabedo per il monoi e questo viene 4,95 perché non era in promozione sul catalogo poi mi ha acquistato l'olio secco sublimatore ecco qui che ho comprato anche io per me sì anche io ho comprato un sacco di cose in questo catalogo perché secondo me era veramente conveniente e siccome adesso devo andare in vacanze tutto sono contenta di aver comprato adesso ad un prezzo ridotto e questo viene a 7,95 in promozione invece di 12,95 quindi un prezzo wow e poi ha preso la ragazza il correttore se non sbaglio adesso lo troviamo perché ho aperto tutto aiuto eccolo qua il correttore questo è quello giallo sempre 5,95 il numero è non si vede un cavolo però mi pare 00503 quindi sì correttore giallo e l'ho preso perché ovviamente c'era la promozione tutti i correttori erano in osferta questo catalogo e allora poi nel sacchettino invece ho messo lei questo che è invece il bagno doccia golden tea sempre della fine serie e i campioncini poi andando avanti questo qua allora questo questo cliente mi ha preso il profumo evidence da uomo che costa 29,95 perché era scontato e siccome per l'uomo non ho granché ho messo qualcosa per la moglie quindi ma perché ho messo tutto insieme qua ah questa è un'altra cliente ho sbagliato infatti mi sembra ho messo qualcosa per la moglie qualche campioncino da donna e ho messo dentro il gel concentrato all'oliva perché è una delle più cose che penso sia abbastanza unisex anche un uomo può usarla e poi a un'altra cliente mi ha preso il mascara e mi aveva acquistato la BB cream che io ho già consegnato tempo fa perché l'avevo già a casa perché mi era arrivata nella borsa campionario io non la utilizzavo la cliente voleva proprio il colore beige 200 quindi le ho dato quella impacchettata che io non avevo mai aperto e le ho messo dentro questi due in regalo li metto qua dentro perché sono li devo consegnare lo stesso giorno quindi ok qui allora in questa cliente invece è mia madre nello specifico che mi ha ripreso l'acqua profumata alla vaniglia perché corpo e capelli perché mi ha detto che quando andava in giro tutti le facevano i complimenti per il profumo che aveva e quindi ha voluto ricomprarlo assolutamente e questa viene 9,95 perché non era in offerta poi anche lei mi ha preso un correttore lei me l'ha preso aranciato in questo caso da 5,95 e il codice è 41365 sì che non si legge però lo leggo io abbiate fede poi lei mi ha comprato lo shampoo concentrato che costa 4,95 il bagno doccia concentrato da 3,95 sempre alla vaniglia e il bagno doccia concentrato alla melagrana no non è la melagrana lampone menta piperita perfetto non mi ricordavo bene e me li ha comprati perché adesso devo andare in vacanza e può portare soltanto 100 ml di prodotto quindi ha scelto questo e poi mi ha preso anche lei la crema gel zero difetti della sebo vegetal che costa 5,95 perché è in offerta e a lei ho messo crema mani e bagno doccia alla mela rossa e poi i campioncini lascio tutto per terra così facciamo un po' prima poi lo vado a mettere a posto qui abbiamo sempre i cataloghi questa cliente invece mi ha ordinato questo che è una crema doccia nutriente che io non ho mai provato onestamente e quindi non so come sia e costa 4,95 e poi mi ha preso invece questo che è il balsamo dopo barba che anche io ho comprato per il mio ragazzo perché si arrossa molto quando fa la barba e quindi volevo provare a vedere come fosse la profumazione buonissima poi non so come sia nell'utilizzo e costa 5,95 perché era in offerta e anche a questa cliente crema mani alla mela rossa ecco qua va bene poi metto a posto aspettiamo il tutto quei prodotti che vedete qui sono tutti miei li ho presi per me aspettate che mi avvicino perché li ho lasciati lontano ovviamente non si vede un cavolo qua tutto buio spero che riusciate a vedere lo stesso mi spiace se vi sto sballottolando in giro e come vi dicevo anche io per me ho preso il mascara volume vertigine non riesco a parlare va bene e lo testerò e vi dirò com'è anche se ho buone aspettative perché lo scovolino mi piace molto perché è in silicone e quindi penso che proprio così lo scovolino come si vede nella foto spero che riusciate a vederlo abbastanza bene ecco qua poi ho ripreso perché lo avevo terminato ed era in sconto il monoi ragazzi ho spaccato tutto vabbè come al solito ho preso il monoi e lo sto prendendo al contrario è quello brellantinato ecco qui perché il mio era finito poi ho acquistato la matita per le sopracciglia il monoi era in offerta a 8 euro e 95 infatti era l'ultima pagina dell'album ecco qui invece di 14,95 quindi ne ho approfittato subito anzi volevo comprarmi due per fare scorta però poi ho detto ma sì chiara dai evitiamo di comprare troppe cose io ho preso per me la matita per le sopracciglia e questo è il colore castano non è il più scuro comunque poi ho preso l'acqua profumata al monoi che devo essere onesta non ha una profumazione cioè è un po' sa un po' di alcol rispetto a all'olio a tutto quanto quindi sì buona però ne preferisco altre di acque profumate e anzi questa costava costa perché non mi ricordo scusate perché i prezzi non me li sono scritti e non ho qua la fattura 9,95 in offerta invece di 12,95 quindi ho approfittato anche di questa offerta ma tutto per terra oggi poi ho preso per me questa dell'idra vegetal che non ho ancora provato che costa 5,95 in offerta perché sul collo come avete visto negli altri video ho questa irritazione ho la pelle molto secca che adesso sta andando via però mi è rimasta la pelle molto secca quindi voglio metterla soprattutto sul collo mi sono comprata tan 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 il suo elixir purple mi ero comprata la mini taglia nell'album scorso nel tra di noi e mi sono innamorata perché è molto molto dolce mi è piaciuto un sacco e l'ho deciso di comprarlo e costava 27,95 perché è in offerta molto molto bello infatti sono contenta di averlo comprato poi ho preso per me il fondotinta che mi mancava questo e l'ho pagato 10,95 perché era in offerta colorazione beige 100 ed è lo zero comfort zero default comfort che ho provato il campioncino ed è quello che mi piace di più perché è molto coprente infine per me ho comprato questo cofanetto e c'è anche attaccata una fogliolina che carina molto molto carina e il cofanetto è questo che era in offerta e l'ho pagato 22 euro secondo me bellissimo da fare come regalo e c'è dentro il latte corpo della cord chic il bagno doccia e sono da 200 ml se non mi sbaglio sì 200 ml e il profumo il profumo diciamo che è più se il suo elixir è molto molto dolce questo è più più secco come profumazione però mi piace lo stesso più floreale diciamo ed è questo qui se riesco a farvelo vedere senza uccidermi questo piccolino qui diciamo che ho comprato un sacco di profumi in questo questo catalogo perché c'è questo il suo elixir l'acqua profumata l'uonoi vabbè ho fatto incerto di profumi per un po sono a posto e un'altra cosa che mi sono comprate in realtà che non c'entra con i brochet perché per i brochet abbiamo finito qui ho ordinato su un sito due prodotti dell'acquolina che sono questo che è alla vaniglia nera acquolina royal che non ho mai provato e come profumazione non mi fa impazzire onestamente ma io ho fatto questo ordine ragazzi solo ed esclusivamente per questo prodotto io questo prodotto lo usavo anni anni fa e non lo trovavo più perché non lo vendono più qui in giro ed è sempre dell'acquolina royal vaniglia e jasmin ovvero vaniglia e gelsomino ragazzi c'è una profumazione non buona di più e siccome mi ero innamorata di questo prodotto e prendendo il mono e mi ha ricordato un po questo prodotto anche se adesso risentendolo non si assomigliano tantissimo però l'ho voluto ricomprare e quindi anche se erano in combo questi due anche se ho dovuto prendere questo che non mi piace sono contenta perché questo è buonissimo e mi mancava questa profumazione non potete capire comunque allora a parte tutto il casino che ho lasciato qua a casa adesso metterò tutto a posto il video finisce qui spero tanto che vi sia piaciuto spero di avervi tenuta tanta tanta compagnia e spero che questi video vi piacciano anche se ho visto che comunque stiamo abbastanza crescendo siamo 15 iscritti e io non mi aspettavo neanche di averne 5 onestamente quindi sono molto molto contenta di questo appoggio che mi state mi state dando e più in là magari quando raggiungeremo determinati traguardi non so i 100 iscritti se mai ci arriveremo organizzerò anche un giveaway spero vivamente che questi video vi piacciano anche se ho notato che diciamo questo argomento eurocce vi piace molto che mi sono contenta e per questo vi chiedo di lasciarmi un grosso like se vi piaciuto il video di iscrivervi al canale di attivare la campanella e noi ci vediamo con un prossimo video spero molto molto presto la verità con un prossimo ordine speriamo sempre su questo catalogo dell'album 9 che è un catalogo fantastico ragazzi acquistate se potete acquistate adesso perché i prodotti sono buonissimi e qui sono ad un prezzo stracciato e vi auguro una bella giornata vi mando un grosso bacio e ci vediamo il prossimo video ciao a tutti